Strada dei Parchi non paga quanto dovuto per la concessione autostradale e quanto emerge dalla relazione della sezione controllo enti della Corte dei Conti sulla gestione 2020 di ANAS. Ogni anno la società del gruppo Toto deve ad ANAS per la concessione delle A24 e A25 circa 56 milioni di euro. Dalla relazione della Corte dei Conti, pubblicata ad inizio anno, si scopre che esiste un contenzioso. Un anno fa ANAS ha dato seguito a tre atti di pignoramento per oltre 30 milioni su quattro diversi conti bancari. I pignoramenti, secondo quanto scritto dai magistrati contabili, hanno causato una paralisi operativa di Strada dei Parchi. Dopo lunghe trattative ANAS ha rinunciato ai pignoramenti e questo debito è stato saldato. Subito dopo però l'azienda autonoma delle strade, tramite ricorso per decreto ingiuntivo, è tornata a bussare alla porta dei Toto chiedendo l'estinzione di un altro debito da quasi 75 milioni. Questa situazione non fa che preoccuparci oltremodo sulla situazione di questa infrastruttura. Noi nel passato abbiamo depositato diversi esposti sulla situazione della manutenzione, in particolare dei viadotti, che hanno portato all'apertura di diverse inchieste della magistratura abruzzese. A novembre 2020, infatti, la procura di Teramo sequestrò a Strada dei Parchi quasi 27 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, la società per azioni non aveva provveduto fin dal 2009 a nessun intervento sulle parti strutturali dei viadotti. A ciò fece seguito un'inchiesta della procura dell'Aquila, secondo cui Strada dei Parchi avrebbe esercitato pressioni sul governo, minacciando l'aumento dei pedaggi, la chiusura del traforo del Gran Sasso e la messa in cassa integrazione dei dipendenti, così da aumentare il proprio potere contrattuale e ottenere la rateizzazione dei pagamenti ad ANAS. Al di là delle questioni penali, noi non siamo soddisfatti della gestione passata di questa infrastruttura, riteniamo che lo Stato debba riprenderne le redini e noi auspichiamo che non ci sia neanche una buona uscita nei confronti di Strada dei Parchi in questa evenienza. Intanto a febbraio è stato avviato l'iterra di rescissione del contratto di concessione. L'indennizzo per Strada dei Parchi è stato calcolato in 2 miliardi e mezzo e questo mentre da luglio, salvo ulteriori proroghe, dovrebbe scattare un aumento dei pedaggi di circa il 35% a causa della mancata approvazione ministeriale del piano economico finanziario scaduto nel 2013.